Se te scrivi ovviamente significa che te sti sordini li vedi Io vedo il doppio pay placement C'è qualcosa che non va Ovviamente le storie di Fabrizio Corona le metto a mod immagine Non mi voglio rovinare il cerca di Instagram Ci mancherebbe altro Ma chi cazzo è sto tipo? Che ha il nome di un gruppo musicale Ammazza frate ma questo è il livello di chi scrive al maestro in chat Ah ma sei pelato Oh ma andai lasciati i capelli Si chiama come il gruppo musicale Spettacolare C'è capito regà? C'è stanno i blur Aspetta Incredibile E dice che galleggio da anni Io eh Trent'anni di storia Presto nei migliori cinema Beh potevi uscire giusto adesso Che il livello del cinema italiano è Non lo so infimo probabilmente Però mi fa piacere Se ti fanno un film sulla tua storia Sicuramente so dove non andare a vederlo Che mi fa pubblicità gratuita Dopo aver chiesto per fare la stessa cosa nella sua live 45.000 euro Ed essere stato ovviamente mandato a fare in culo Allora Qui ci sono tante cose da analizzare in realtà Che è un po' un disastro C'è un macello più che altro mi dispiace Perché siamo nel mezzo Nel bel mezzo del disastro Del disastro di Hype Train e tutto E quindi Eeeh Andiamo un attimino Ad analizzare perché Vedo Una precisa parola che viene utilizzata in questa storia Vedo una parolina qui Che mi rattrista In questa storia di Fabrizio Corona Vedo una parolina un po' Cazzo che non mi aspettavo Che mi Mi colpisce Mi ferisce quasi Che è Dopo aver chiesto per fare la stessa cosa nella sua live 45.000 euro Adesso arriviamo anche a quello eh Non vi preoccupate Eeeh Ed essere stato ovviamente mandato a fare in culo Ovviamente Fabrizio ma hai abbassato i prezzi Cioè perché Se te scrivi ovviamente Significa che te Sti sordini li vedi Io vedo il doppio Poi placement C'è qualcosa che non va Però ecco Mi dispiace Quello ovviamente Mi fa capire che I prezzi qua Scarseggiano Cioè i soldi Scarseggiano E il che mi fa molto arrabbiare Mi fa molto arrabbiare Perché sia anche Grimbaud Non sgancia soldi Oh Simone Che fai? Che fai? Fai il format Tutto bello Non sganci pochi soldi E poi ti metti anche a dire Eh non so se voglio continuare a fare Twitch Non mi va più Perché adesso fare le reaction Dopo che ho fatto il super grande Il mega format Che è andato benissimo Mi sta un po' stretto Ci sta Bel ragionamento Oh dai soldi Ai tuoi ospiti Paga bene I tuoi ospiti Anche se c'è Da di una cosa Bisogna subito Andare a rompere Na 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 Un ramoscello Pe Simone Perché Io Fabrizio Io spero Che non diventi un vizio Però C'è Da parlare E' una situazione qua A me tante persone Ovviamente Per quanto Tu mi dispiace Che non mi conosci Anzi significa Essere una persona No Non posso dirlo Di norma Faccio questa battuta Dicendo alle persone Che non mi conoscono Che sono persone sane Però Tanti mi hanno fatto Delle storie Contro O comunque Mi hanno semplicemente Messo delle storie E ovviamente Come lo stupido gioco Non del rap In questo caso Ma lo stupido gioco Dei social Le persone poi Mi arrivano In DM E mi fanno Oh ma guarda questo Che ha parlato Oh ma guarda quest'altro Questo ti ha fatto la storia Questo eccetera eccetera A me non mi è arrivato Nessuno in DM Cioè Ucciaglia fanbase Più morta De Joker E sarebbe preoccupante La situazione Cioè cioè I DM Sembravo aperti I DM Frate Ma meno male Che mi hanno girati Mi hanno girati Sti screen Perché sì Se no c'avevo I DM Che aprivo Sembrava Red Dead Redemption 2 Aveva Il cosetto Con l'aria Che passava E il E il coso De fieno Praticamente Ero preoccupo No ma Mi sono preoccupo Ho detto Cazzo E quindi Potrebbe essere Che effettivamente Allora Simone C'ha ragione A fare un certo tipo Di prezzo Quando ho detto Che non Saper fare Comunicazione Significa anche Saperci lavorare Con la comunicazione Ok Non voglio Sembra pazzo Ma mi sa che Fino a qua Ce siamo No Voglio di Allora Questo Che cosa significa Significa Che metti Uno screen Del genere A parte Che vabbè Non te parlo Irlegalese Perché Figurate Ci mancherebbe Penso Che a te Come a me Ce ne frega Un cazzo Del legale In generale Una rottura De sfasciata Dei cazzi E via dicendo A parte Che questa È corrispondenza Privata Vabbè Ma lasciamola lì Ma che ci frega Ti so Questi cazzi Voglio dire Ma è una carriera Che Se lavora Su sta roba Quindi Perché Perché dovremmo Prenderla In considerazione Adesso Ma mette In mezzo Cioè Mettere questo screen Che appunto Non si sa bene Da dove È stato preso O meno Che dice Ciao Ferdinando Mettere questo screen E scrivere Ciao Ferdinando In generale Il pacchetto standard Mensile Twitch Include 4 menzioni Durante il mese Io ti ringrazio Tantissimo Per questo screen Perché Adesso ti spiego Anche 4 menzioni Durante il mese Possiamo aggiungere Anche code Grafiche Vari In questi momenti Con visita al sito E spiegazione di prodotto 4 reminder Della collab Durante le dirette Chat bot Timer ogni minuto Chat bot Comando Una storia Pannello Il prezzo di questo Come segue Per gli streamer indicati Tumblr 45 mila euro The Real Marza 11 mila euro Grimbaud 8 mila euro E includendo tutti In questo pacchetto Riesco sicuramente A scontare qualcosa Direi 50 mila Chiudendo Direi Vabbè Quel prezzo che è Chiudendo quindi A 59 mila Quando io dico Che uno Non sa Fare comunicazione Perché Non sa Non è dentro Al settore Della comunicazione Cioè Quando io dico Detto Neanche 24 ore fa Signori Intendo questo Perché se io Mi vedo sto screen E poi mi leggo Scritto Dopo aver chiesto Di fare la stessa cosa Nella sua live 45 mila euro Ed essere stato ovviamente Mandato a fare in culo Fabrizio 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 Ma che non diventi Un vizio Perché se io apro Se io adesso apro Fabrizio Corona Su Google E io leggo Che c'hai 50 anni 50 anni Io non ce voglio Crede che in 50 anni In mezzo a tutti I casini Che sei stato Eccetera Eccetera Te non hai idea Di come funziona Un network De management Fra te Te giuro Mo perché Mi sono fatto i peli Da poco Che c'hanno shooting Ahimè E io c'ho ancora La pelle giovane Incredibile Però C'è se no C'avevo i peli Che me se Accaponavano Praticamente C'è ma come fai A non sapere Come funziona Management Soprattutto Per una persona Grossa C'è a noi Ci arrivano Due trecento Offerte De lavoro Al giorno Tu pensi Che il mio management Venga da me A dirmi A scrivermi su whatsapp Due trecento Offerte Al giorno O che prima Come tutti i management Fanno Fanno il prezzo E poi mi vengono Da me A dir Senti abbiamo Questa cosa Ti può interessare Questo è il prezzo C'è Dai però Ma sembra Te spiega Matematica Ragazzino De quinta elementare C'è Mi viene un attimino Mi sento quasi Non passate tante Mi sento a disagio Quanto like E dislike D'Antonite Francesco Quando fece la reaction De qui parte la ship Scusate Non voglio Non voglio essere Distruttivo Nei confronti De chi E delle persone Mi conosco Da dieci anni E passa Perché amore mio Io te voglio Te voglio un bene Dell'anima Per carità del cielo Ma intanto Due cose Io capisco Il processo Di svecchiamento Cinquanta anni Quindi andiamo Un attimino A mettersi A mettersi Un attimino Da altre parti Per provare a svecchiare Un po' Sta fan base Che poi Non lo so Esiste Non esiste Da instagram Sicuro tocca Un attimo Riavviarlo Io so Come te Se mi paghi Ti posso dare una mano Ovviamente Ci mancherebbe altro Però Però Sono un po' Preoccupato Da sta situazione Anche perché Fabri Cioè Questo è il sito De pips Non ho visti pure altri Dove dicono che invece C'è sta la polvere Da sdifà Però questo è il sito Ufficiale dei pips Pips C'ha due modi Per essere consumato Somministrazione sublinguale O somministrazione orale Ma non lo so Devo essere sincero Io non ce leggo Somministrazione in stream Davanti a ragazzini De naso Mi avrebbe pure fatto Un po' strano Se ce lo leggevo Devo essere sincero Quindi Non lo so Cioè Già questo Mi lascia un po' perplesso Ma poi mi lascia perplesso Ancora un'altra porta Cioè Volemo mettersi a fare Un po' di corrispondenza privata Questo è il messaggio Del manager mio Uno dei miei manager Giustamente Ciao Ferdinando E poi è girato ovviamente A sto poro Ferdinando Ciao Ferdinando Un saluto I tuoi occhi sono belli Veramente come il mare A fiumicino d'estate O anche ad aprile È molto bello Con un po' di arietta Ciao Ferdinando Sulla seconda proposta Sicuramente possiamo lavorare Inizierei magari Intanto che proseguiamo Con i nostri ragionamenti A inviare qualche campione ai ragazzi In modo che possano testare il prodotto Perché Giustamente Eh sì sì Cioè Noi o dovemo testare il prodotto Prima di decidere Se sponsorizzare o meno Cioè Nessuno ha mai chiesto De sponsorizzare niente Ovviamente Cioè È proprio Il lavoro del manager Cioè L'influencer Va in un management Per avere Un aiuto Uno più uno fa due Due per due fa quattro Questo è quello che hanno scritto Che hanno scritto Sì poi giustamente A Ferdinando Nel caso non dovesse proprio Essere del loro gradimento Ovviamente È meglio virare su altre opzioni Il marketing tramite creator Necessita di grande fiducia Da parte della community Quindi è fondamentale Individuare figure Che siano anche fan Del prodotto E della vision Visione ve ne prego Che cos'è vision Aziendale Cioè è così che funziona Se 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 un prodotto piace Uno lo sponsor Cioè Io lo so che nella tua visione Si sponsorizza tutto Fino a quando ci sono soldi O Ci sono soldi Però Cioè Non Non è così Con noi Non funziona così E poi però Però ti Ti ringrazio Perché io tramite questa cosa Ho scoperto I soldi che Il mio management Nel caso aveva chiesto Per tutta questa roba Di un mese 45.000 euro Anche Io vado a Evox Io entro in Evox Ma stiamo scherzando 45 Solo 45.000 euro Per favore Siamo È uno scherzo È La Ve siete messi d'accordo Cioè scusa Fabri ma te ne do una più simpatica Hiamo chiesto una volta Hiamo chiesto 60.000 euro A una Famosa Multinazionale Di creme del viso Ehm Per sponsorizzare I loro prodotti Cioè te dico questa Nel senso Quelli io ho chiesti Proprio io Cioè quella secondo me Sarebbe stata molto più scam Guarda che pelle C'ho la pelle di un bambino Sembro un neonato Cioè C'ho qualche brufoletto Frate ma sarebbe veramente Stato ridicolo Rubarmi tutti quegli sordi Cioè Poi Lì mi hanno mandato a fanculo Eh ma lì mi hanno mandato a fanculo Perché sai poi È un giochino delle parti Un po' il management Un po' Tanto ovviamente Anche noi influencer Un po' anche L'azienda Perché l'azienda Magari ci stai Ti diciamo Ma che cazzo vuoi Tutti sti sordi Guarda che bel viso Che sei Sei bellissimo Sei un fregno da paura Frate Veramente ti prego Vienimi a lucidare le scarpe E nel mentre guardami Negli occhi in pov Però Cioè Dai Su Se dovevo fare le lezioni De marketing base De come funziona Un'azienda De management In live Ma a sto punto Facevo come i cripto Guru E vendevo I pacchettini A me Dispiace tantissimo Fabri Io ti giuro Penso anche Che sei Sei Interessante Però io Secondo me Ci sono così tante persone A Milano Famose Che vanno in discoteca E se fanno De co**na Ad esempio Ancora ci sta Qualche bello scoop Vero da fa' Ti ho mai capito E se fanno Grazie a tutti.